Ciao a tutti! L'attività che vi sto per presentare è molto particolare, perché è un modo di fare le tabelline molto antico. Non tutte le tabelline, alcune la tabellina del 6, del 7, dell'8 e del 9. Questo metodo molto molto antico viene chiamato moltiplicazione del pastore, moltiplicazione tibetana, ma in realtà non sappiamo bene da dove e quando è uscita. Sappiamo solo che è una moltiplicazione che facciamo con le dita. Quindi proviamo a vedere come funziona questo sistema antichissimo e facciamolo insieme. Prima di tutto abbiamo detto che facciamo solo alcune tabelline, quella del 6, del 7, dell'8. Come rappresentiamo queste modalità, questi numeri con la modalità delle dita? La rappresentiamo in questo modo, 6, 7, 8 e 9. Cioè in pratica utilizziamo quante sono le dita alzate, quelle che superano il 5. Quindi se io parlo del 6 ho 1 più di 5, oppure 2, oppure 3, oppure 4 per il 9. Detto questo cominciamo a vedere come funziona la moltiplicazione. Allora ragazzi, che tipo, che moltiplicazione è, che tabellina è? Vi lascio un secondo per pensare, fermate pure il video. Avete pensato? In base a quello che abbiamo detto prima, questo sarà sicuramente 8, perché sono 3 in più del 5, e queste sono 2 in più del 5. Quindi con queste dita alzate, noi stiamo per fare la moltiplicazione. 8 per 7. Vediamo allora come. Queste sono le 3 dita della prima mano alzate, queste sono le 2 della seconda, quindi a questo punto queste dita si sommano. Allora, vediamo per bene come funziona. Abbiamo detto 3 che sta per l'8, 2 che sta per il 7, queste le sommiamo e otteniamo 5 dita. Queste 5 dita corrispondono alle 5 decine, cioè queste le consideriamo 5 decine, quindi 50 ogni dito corrisponde ad una decina. Andiamo avanti e vediamo che cosa succede invece con le dita che sono piegate. Nella prima mano abbiamo 2 dita piegate, nella seconda ne abbiamo 3. Le dita piegate non vanno sommate, ma vanno fra loro moltiplicate. Ecco perché le tabelline almeno fino al 5 vanno sapute. In questo caso dobbiamo moltiplicare 3 per 2, 3 per 2 è 6, questo 6 corrisponde alle unità. Vediamo allora che cosa abbiamo fatto fino ad adesso. Abbiamo detto che le dita alzate corrispondono alle decine, quindi 5 decine, che le dita abbassate fra loro moltiplicate, 3 per 2, corrispondono a 6 unità, quindi abbiamo 56 che vanno fra loro sommate ottenendo 56, che è proprio il risultato di 8 per 7. Bene, proviamo adesso a farlo insieme. Allora, proviamo a fare 6 per 8. 6 per 8. Allora, quante sono le dita alzate? Uno da questa parte, tre dall'altra. Allora, in tutto ho 4 dita alzate, perché vanno sommate, quindi otteniamo 40. Andiamo a vedere ora quante sono le dita abbassate. Da questa parte ne abbiamo 4, dall'altra parte ne abbiamo 2. Abbiamo detto che le dita abbassate vanno fra loro moltiplicate, 4 per 2, 8. Quindi, ricapitolando, 4 decine, 8 unità. E quindi, in questo caso, otteniamo che le dita alzate, abbiamo detto, sono 4, le dita abbassate, 4 e 2, quindi 8. 6 per 8, abbiamo 48. Allora, abbiamo capito? Vediamo se, facendone un'altra da soli, abbiamo davvero capito la modalità. Ve ne propongo quindi un'altra. 6 per 6. Vi lascio il tempo per provare. Fermate il video. Allora. Insieme, di nuovo, facciamolo. E quindi, 6, 6. Che cosa otteniamo? Sommiamo, abbiamo 2 decine, restano 4 dita abbassate su ciascuna mano, 4 per 4, 16. 20 più 16, 36. Quindi, vediamo quel venino. Le dita alzate. Le dita abbassate, che invece vanno fra loro moltiplicate. E alla fine, il risultato finale, è il risultato finale, 20 più 16, uguale 36. Quindi, è un metodo molto semplice per eseguire le moltiplicazioni. Quali, abbiamo detto, le moltiplicazioni, ovvero quelle tabelline con i numeri un po' più alti, che spesso ci mettono in difficoltà. Ci possiamo chiedere, però, ma perché funziona questo metodo con le dita? La domanda diventa un pochino più impegnativa, perché serve qualche calcolo algebrico. Quindi, lo lasciamo ai fratelli più grandi o, per curiosità, se lo vogliono vedere, i vostri genitori. Allora, abbiamo A e B, che sono i numeri che sono rappresentati sulle nostre dita, che possono assumere i valori 6, 7, 8 e 9, abbiamo detto. Che cosa succede? Le dita distese su una mano sono A-5 e sull'altra B-5. Nel nostro caso, per esempio, se io dovessi prendere per A il valore 8, A-5 abbiamo detto che le dita alzate sono 3. Quindi, questa è la modalità che abbiamo usato fin dall'inizio. Quindi, le dita piegate, quante saranno? Saranno, su una mano, 5, che sono le dita della mano, meno quelle che erano distese. Quindi, 10-A. È un calcolo algebrico, ma che si fa in maniera abbastanza semplice. Per esempio, se io dovessi prendere per A uguale 8, abbiamo detto, che è questo, le dita abbassate sono 2, cioè 10-8. Andiamo avanti e vediamo che cosa succede sull'altra mano. Sull'altra mano saranno, in maniera analoga, 10-B. Che cosa abbiamo detto a questo punto? Che le decine si ottenevano dalla somma di questi due valori. Quindi, io devo moltiplicare per 10 la somma che è fra A-5 e B-5. Mentre, invece, le dita che erano piegate vanno fra loro moltiplicate. Quindi, devo eseguire questo calcolo algebrico, 10-A per 10-B. Se andiamo avanti con il calcolo, questo è il risultato delle dita distese, questo è il risultato delle dita piegate. A questo punto è molto semplice, basta fare una somma algebrica, il risultato è proprio A per B. Abbiamo finito questa moltiplicazione abbastanza speciale, molto semplice perché si lavorava sulle tabelline, ma in realtà siamo andati fino al calcolo algebrico. Alla prossima puntata, ciao a tutti! Grazie! Grazie!